Si è tenuto in Rappalazzo Iacolo un incontro che ha portato alla stipula dei contratti di locazione con canoni agevolati. Erano presenti l'assessore Larosa e il dirigente Salvatore Guadagnino, dall'altro i rappresentanti delle organizzazioni di categoria Sunia, Sicet, Uniat e Federproprietà. E dopo aver illustrato alla stampa i punti qualificanti dell'accordo, le parti hanno proceduto alla sottoscrizione dell'accordo. È un accordo territoriale importante, frutto di un'amministrazione che in questi mesi non solo ha estaurato un ottimo rapporto con le organizzazioni di categorie, ma attraverso la commissione tributi e quindi grazie al lavoro di sinergia con loro siamo riusciti a questo importante risultato del canone agevolato concordato, dove praticamente dà l'opportunità ai proprietari e agli inquilini di poter usufruire di questa importante opportunità di agevolazione fiscale e non solo. Quindi questo è un ottimo risultato, è un punto di inizio dove impegna i partner sindacali ma anche l'amministrazione comunale a dare una priorità a questo accordo nel prossimo bilancio. Una sinergia che ritengo fondamentale, ma un ottimo risconto per la città e per il territorio. Questo è il primo accordo in Sicilia che Federproprietà firma con il sindacato degli inquilini, grazie anche alla collaborazione dell'ufficio tributi e dell'amministrazione comunale. Siamo molto orgogliosi del fatto che siamo arrivati per primi in provincia di Ragusa e, ripeto, in Sicilia. Le agevolazioni sono previste dalla normativa nazionale, un risparmio non solo nella tassazione dell'IRPEF legato alla cedola resecca, ma anche sull'aliquota IMO per i proprietari. Abbiamo consegnato all'amministrazione comunale una lettera congiunta, firmata anche dal sindacato degli inquilini, con la quale chiediamo di applicare un'ulteriore riduzione sull'IMO e un'agevolazione sulle tasse che pagano gli inquilini, quindi l'Atari in particolare. Questo consenterà di far emergere sicuramente i contratti di locazione che, tristemente, nei nostri territori vengono lasciati spesso in nero e consentono appunto un'agevolazione importante in termini finanziari sia per chi affitta sia per chi è il proprietario dell'appartamento. Grazie.